ciao a tutti ragazzi benvenuti ben ritrovati sul canale di ac milan inside quest'oggi andremo a fare un po quello che è il resoconto sulla nostra attuale situazione di mercato prima di iniziare però vi chiedo gentilmente di lasciare un like un commento di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che porteremo qui su youtube inoltre in descrizione troverete anche tutti quanti i link necessari per i nostri profili social e il nostro sito web ufficiale www.ac milaninside.com bene adesso parliamo un poco di quella che è la nostra situazione di mercato ma in realtà andando a parlare inevitabilmente di quello che ieri sera è successo in che senso il milan ieri sera secondo anche luca marchetti di sky sport uno dei principali esperti di calcio mercato in quella redazione pare aver chiuso marco lazetic attaccante classico 2004 della stella rossa di cui vi abbiamo parlato anche nei giorni scorsi di cui vi ha parlato anche giuseppe in un milan inside review che dire l'attaccante classico 2004 è nipote di nicola lazetic ex torino quindi comunque la conosce l'italia e ne parlano bene tutti ne parla bene anche il direttore generale della stella rossa tertic che ha detto che il lavoro fatto col settore giovanile della squadra di belgrado è stato ottimo al punto che una squadra del calibro del milan è arrivata ad acquistare appunto uno dei loro giocatori di più prospettiva il milan una piccola curiosità non acquistava dalla stella rossa da 30 anni l'ultimo giocatore che il milan ha acquistato dalla squadra serba è stato un certo d'aglian savicevic che col milan ha vinto qualcosina quindi mi posso augurare che l'approdo del giovane attaccante classico 2004 possa essere di buon auspicio seguendo quelli che sono state le orme di un suo connazionale l'azetic quest'anno ha presenziato 15 volte tra campionato e coppa serba segnando quattro reti comunque relativamente poco ma pensando che è un ragazzo giovane 18 anni non titolarissimo nella stella rossa sono numeri anche abbastanza importanti ciò che però mi vuole mi vuole parlare anche la situazione difensore perché lo stesso luca marchetti ha ribadito ancora una volta che la situazione bottman è complicata e difficilissima perché lille non vuole cedere alle proposte del milan ovvero un prestito oneroso con diritto di riscatto lille vorrebbe cash subito un po come pretende la fiorentina per vlaovic di allo e belli le situazioni sono un po le stesse nel senso il milan avrebbe il bisogno di un di un difensore pronto nell'immediato belli e di allo sono in questo momento impegnati in coppa d'africa ed entrambe le società chiedono comunque importanti sborsi economici economici pardon il pari san germain all'incirca 25 milioni mentre il manchester united ha aperto il prestito diritto di riscatto ma come detto nei giorni scorsi il milan non è convintissimo del del ragazzo di belli soprattutto per quelle che sono le sue condizioni fisiche alquanto precarie adesso è giusto un attimo introdurci in un argomento che potrebbe essere un'arma a doppio taglio ovvero la situazione mercato in entrata in generale perché ieri sera mentre si parlava di la zedic al milan e di un milan in difficoltà alla ricerca di un difensore centrale usciva la notizia che la juventus sarebbe pronta a provare l'affondo per dusan vlavic e l'inter per gosens ovviamente i primi stati d'animo dei tifosi milanisti sono stati perché loro cercano questi nomi e noi ci andiamo a riversare in un ragazzo che nessuno conosceva è normale da da milanista anche io posso dire di aver provato la stessa sensazione ieri ma bisogna essere cauti quando si parla di queste situazioni ricordiamo che il milan in mano ad un fondo un fondo che ha prelevato i rossoneri in una condizione economica fallimentare ricordiamo che addirittura il milan ha dovuto non presenziare l'europa league di due anni fa per la quantità di debiti e di non rispetto delle norme del fair play finanziario che avrebbero portato al fallimento qualsiasi fondo qualsiasi squadra quindi dobbiamo solo un attimo essere grati a elliot per per essere riuscito a risanare quelli che erano i nostri debiti e comunque dovremmo ringraziarlo perché sta riuscendo a risanare in generale il milan comunque tramite una campagna di mercato una campagna comunque politica relativamente importante arrivando a non spendere troppo sul mercato ma a spendere il buono ed il giusto per ragazzi che possano essere di prospettiva e da quale il milan possa guadagnarci un futuro ricordiamo anche che lo stesso obiettivo di elliot è sempre stato quello ovvero riprendere il milan risanarlo renderlo nuovamente appetibile sul mercato e poi venderlo al miglior acquirente ovviamente molti di voi si chiederanno il perché un fondo pif quello del newcastle per intenderci è arrivato ad acquistare una squadra che in inghilterra è ultima in classifica a pochi punti e non un milan che secondo in classifica è comunque a livello di storia molto più importante rispetto ai make pies semplicemente perché in inghilterra ci sono questioni economiche molto più importanti rispetto a quanto ci sono in italia e comunque in inghilterra c'è una politica legata allo sport molto più solida rispetto rispetto a quanto avviene in italia un esempio sono le questioni degli stati in italia si passa da un 5.000 persone al 50 per cento non nulla mentre in inghilterra gli stati continuano a rimanere perennemente pieni continuando e tornando al discorso del mercato elliot lo ha sempre detto che non avrebbe mai in questo mercato di gennaio ma comunque anche se so maldini non ci ha mai illusi che in questo mercato di gennaio il milan non avrebbe fatto nessun tipo di colpo eclatante sarebbe potuto arrivare il difensore ma non era nulla di certo il difensore ovviamente per scelto dei rossoneri rasben botman che mi auguro che comunque i rossoneri proveranno a trattare in estate ma il milan comunque ha iniziato ad allargare gli orizzonti passando per di allò per balli o meragic che uno dei nomi usciti all'inizio di gennaio quindi sono profili tanto interessanti tutti quanti quanto completamente differenti si parla di tre titolari o semi titolari per quanto riguarda gli alloni delle rispettive squadre a un ragazzo di neanche 18 anni dello zurigo e giocano un campionato che potrebbe essere equiparato alla nostra serie b addirittura in queste settimane o meglio nel mese di gennaio sempre sono usciti nomi del tipo di gatti del frosinone viti dell'empoli senza comunque effettivamente mai essere partita una vera e propria trattativa per questi per questi per questi per questi giocatori il milan quindi adesso che deve fare il milan adesso chiuderà l'operazione razedic comunque gli serviva l'attaccante vista l'uscita di pellegrini di ritorno al monaco per poi essere girato in prestito al torino perché ricordiamo il milan si libera dall'attaccante classe 2001 italiano non riscattandolo quindi il monaco ha richiamato dal prestito dall'attaccante italiano per poi rigirarlo nuovamente al torino c'era una bozza di accordo tra milano e monaco sulla base di un riscatto di 4 milioni e mezzo ma quanto pare il club del principato ha fatto un passo indietro preferendo girare in prestito l'attaccante cioè appunto pellegrini invece che venderlo a titolo definitivo ai rossoneri per quanto concerne il difensore la situazione è complicata lo abbiamo detto e ribadito più volte in questa settimana però mi auguro che il milan possa comunque procedere e mettere a disposizione di pioli un difensore che attualmente serve come il pane visto che per carità è tornato a tomori e perdone tornato romagnoli il processo di guarigione di tomori e in work in progress viste anche quelle che sono le sue le sue le sue storie instagram dove ci aggiorna il più spesso possibile ma comunque ritrovarci al derby con tutto il rispetto comunque con un gabbia calulo contro un taro zeko può può insomma essere essere fastidioso ma tutto soprattutto complicato vista vista l'importanza della partita sia per la stagione e comunque per per la partita in sé per il momento è tutto quindi riepilogando marco lazic sarà un giocatore del milan il difensore siamo in attesa in attesa anche di aggiornamenti da parte della squadra e di movimenti importanti sul mercato mi auguro che questo video aggiornamento sul calcio mercato possa esservi servito possa esservi piaciuto e possa aver risposto a tutte quante quelle che sono le vostre domande ci vediamo in un prossimo video è sempre forza milan